buongiorno a tutti allora arrivata il kit commemorativa m60 con 35 1.4 versione speciale il cliente che ha prenotato il primo cliente cioè ci siamo sentiti appena ci ha detto non c'è problema aprite pure fate anche filmato cioè è stato veramente gentile e anche generoso da parte sua quindi noi siamo così tanto curiosi di vedere anche immagino che voi siete curiosi e apriamo imballaggio mi piace questa idea cioè anzi questa generosità di accidente che nonostante Marenton mi ha dichiarato che lui vuole usarlo ma io cioè non devo tenere in casa devo usarla quindi aprite pure mamma mia che roba però concordo concordo materiale fotografico se viene utilizzato ha il suo valore certo che rispettiamo chi tiene senza mai aver utilizzato rispettiamo anche questo spirito di collezionismo però usiamo bellissimo apriamo ci hanno messo tanto tempo per consegnarci perché avevano avuto dei problemi problemi di confezione così ci hanno comunicato per il ritardo della consegna vediamo che confezione hanno fatto cosa c'è qua cosa c'è qua tracolla e la borsa il cuoio in effetti non avendo occhietti sulla macchina questa macchina per forza va tenuta sulla borsa se uno vuole tenere al collo perché non c'è occhietti questo trovo però difetto di questa macchina perché chi non vuole questa custodia chi vuole tenere la macchina senza custodia non ha possibilità beh non diciamo che hanno pensato che non veniva utilizzato vabbè comunque questa è la borsa c'è aquilo che 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 ha è l'ora ora che adesso Eccola qua! Bel colore, colore titan, anzi brunita. Ah, commovente, che bellissima, mamma mia, senza parola, cavolo mi piacerebbe avere anch'io, però primo cliente. Qualcuno mi ha scritto su Facebook, ma mettete in demo, mi piacerebbe sì, mi piacerebbe sì, veramente. Poi, beh, dipende dalla laica, dipende dalla laica, la laica Camera Italia. Già ci hanno consegnato questo esemplare, quindi dobbiamo essere grati. Oh, che bellezza, guarda. Sì, ma la sua matricola, quindi abbinata, ottica abbinata al corpo macchina. Mettiamo il tappo come si deve. Tappo speciale, anche posteriore. Poi, l'obiettivo è 35 sumi lux a sferico, quindi all'interno sarà sempre quello. E il paraluce, paraluce metallico. Poi, vediamo qua sotto, senza rovesciare. Libretto di istruzioni. Fatto veramente bene. Certificato di garanzia. Con la matricola, con la firma, blu. E poi, altri vari, garanzia, eccetera, eccetera, sotto, beh, sotto, guardate che confezione. Un sacchettino. Allora, un sacchettino, andiamo, a questo punto, guardiamo, curiosiamo l'apertura. Quindi, certo, ah beh, questo è caricabatteria, non è commemorativo il caricabatteria, però, eh. Non c'è la pellicola. Se faceva, non so, in titanio. Non c'è la pellicola in omaggio. No, quello è fantastico. Nella MA. MA 3X. Questo cos'è? Il caricabatteria è particolare di diametro, con l'interno, c'è tutto... Placcati oro. Invece... No, no, non sono arrivati fino a un male punto. Ma bene. è batteria 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 e panno di pulizia no questi sono guanti 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 e questo è panno di pulizia bene ebbè cioè manca filtro secondo me filtro UV in titanio ebbè però purista purista filtro non mette non mette filtro io non sono purista e quindi a volte metto filtro anzi io avrei messo anche filtro ND8 banca non non in commercio con la montatura in titan in titan va bene grazie signor cliente della sua generosità magari cioè i miei amici sospettano che io e quello lì magari prendevo la nave no non è così io dichiaro con tutta l'onestà questa non sarà mia poi purtroppo abbiamo ripreso il numero per cui eh sì e quindi non mi vedete beh poi speriamo che questo signore che no utilizzerà questo un anno due anni tre anni magari troppo la venda ce la venda perché no perché no ok beh allora signore e signori ringraziamo a tutti a dire della vostra attenzione c'è questa curiosità che avevamo ci siamo da oggi è una macchina bellissima veramente bella grazie ciao ciao